Curiosità pur essendo nato a Battipaglia nel 1992, l'attore Loris De Luna in arte Valerio Misano è irpino. Tante le comparse fino al successo interpreta Valerio Misano in Gomorra 3, il giovane attore Loris De Luna ha studiato in Irpinia. Conosciuto dal pubblico di Gomorra come, O. V. Cabula, è un personaggio atipico della nuova stagione della famosa serie. Figlio della Napoli Bene, Valerio è uno studente universitario con le giuste conoscenze che si ritrova ben presto al fianco di Enzuccio Sangue Blu, uno dei protagonisti centrali di Gomorra 3. Fino alla puntata andata in onda venerdì scorso si è visto un Valerio pronto a combattere al fianco di chi è nato più sfortunato di lui. Il ragazzo, diventato il braccio destro del nuovo boss Enzuccio, si è schierato contro i confederati, bisognerà attendere l'ultima puntata della serie per scoprire le sue sorti nella «Guerra di Napoli». La vita di Loris De Luna pur essendo nato a Battipaglia nel 1992, l'attore Loris De Luna in arte Valerio Misano è Irpino. Il ragazzo ha vissuto per molti anni a Mercogliano, in provincia di Avellino. Secondo quanto riportato dal sito Newsly, Loris ha studiato nel capoluogo Irpino, dove ha frequentato il liceo scientifico Mancini. Dopo il diploma, si è trasferito nella capitale dove ha iniziato i suoi studi in recitazione e danza. Tante le comparse in teatro e televisione fino ad arrivare al successo con la sua interpretazione in Gomorra 3.